In occasione dell'edizione 2014 del Salone del Mobile di Milano, Cosmit ha deciso di fare un punto sulla situazione del design italiano. Ecco il motivo per incontrare 20 personaggi, 20 protagonisti del design italiano. Con loro parleremo di molti temi, ma soprattutto affronteremo il problema del passaggio delle generazioni. In che modo il design italiano ha saputo rinnovarsi dopo la scomparsa dei grandi maestri che dal dopoguerra a oggi avevano costruito la grandezza del nostro design. Ecco perché incontreremo personaggi affermati, ma anche giovani designer. Con loro parleremo di globalizzazione, di autoproduzione, delle ultime tendenze, ma gli chiederemo anche quali sono i pezzi che portano al Salone del Mobile e quali sono gli eventi e le situazioni da visitare in città.